No, non ci sono obiettivi a livello di numeri, ma cerco di aiutare la squadra, che siano con i gol o con le prestazioni, cerco di scendere in campo e di sudare la maglia. Se quando poi i gol arrivano è ovvio che siamo più contenti tutti. Spero da qua alla fine di poter ancora segnare altri gol pesanti. Sì, un pomeriggio molto molto soddisfacente sia personale, ma soprattutto per la squadra. Questa è stata una vittoria di squadra, dove siamo scesi in campo molto concentrati, sin dal primo minuto. Non dimentichiamoci che Rossi ci ha parato un rigore sul 1-0 e ci ha fatto veramente una svolta sul lato positivo, dove ci ha dato ancora più fiducia, ancora più carica per affrontare il resto della partita. Sì, risultato molto importante per questa fine di campionato. Ancora la salvezza non è matematica, ma siamo molto vicini. dobbiamo ancora essere concentrati per raggiungere l'obiettivo il prima possibile. La motivazione l'abbiamo trovata durante la settimana. Dopo la partita con la Virtus Verona, dove abbiamo lasciato in campo due punti pesanti, sapevamo che dovevamo raccoglierlo e prenderlo fuori casa. Oggi è stata veramente una buona partita di tutti, quindi siamo molto felici di raccogliere altri punti pagubi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.